Si trova il padiglione dell'artiglieria meridionale sul versante meridionale del Montepal d'Alsan. Il padiglione dell'artiglieria meridionale è il più piccolo in scala. Il padiglione è composto da tre piani. L'artiglieria era installata al piano inferiore. I piani superiori erano destinati ai soldati per monitorare l'area circostante e attaccare il nemico con pistole e frecce. Tra i cinque padiglioni di artiglieria della Fortezza HW a sangue, il padiglione dell'artiglieria meridionale è nelle migliori condizioni originali. È stato installato il padiglione dell'artiglieria meridionale ai piedi della Porta Paldalmun e del Montepal d'Alsan. E aveva importanza militare perché doveva proteggere Porta Paldalmun e Montepal d'Alsan. Paldalmun era un centro commerciale. Un'area in cui erano attive attività economiche private. Il Montepal d'Alsan è la strada per il palazzo temporaneo HW a sangue, dove soggiornò temporaneamente il re Jonggio. Namporu è stato costruito allo scopo di proteggere la Porta Paldalmun e il Montepal d'Alsan. Un padiglione dell'artiglieria, chiamato Polu in coreano, è una struttura sporgente verso l'esterno sormontata da un padiglione. All'interno del quale è installata l'artiglieria da utilizzare per attaccare il nemico con cannoni. La torre del cannone ha un tipo di struttura avanzata per impedire ai nemici di avvicinarsi alle mura del castello. Parte delle mura del castello sporge verso l'esterno in forma convessa. Gli edifici erano disposti in modo simile ai bastioni di Suwon HW a sangue. L'interno del terzo piano è stato svuotato come Gong Sim Dong Suwon HW a sangue e il cannone era nascosto all'interno. Questa è una struttura progettata per attaccare nemici stranieri. I livelli inferiori da 3 a 6 erano realizzati in pietra di granito. E la parte superiore era di mattoni. Al piano superiore è stata realizzata una costruzione in legno. Ci sono 5 padiglioni di artiglieria nella fortezza di Suwon HW a sangue. Solitamente la scala veniva aumentata sui terreni pianeggianti e ridotta sui pendii. I padiglioni dell'artiglieria di Suwon HW a sangue furono costruiti con dimensioni e altezze diverse per ogni piano a seconda del terreno e delle condizioni circostanti. I padiglioni dell'artiglieria di Suwon HW a sangue sono costruiti in mattoni. Servire come luogo per attaccare le persone con artiglieria o cannoni.